Ben arrivati a questo appuntamento. Lorenzo, non mi ricordo che numero di appuntamento è questo di spazio lavoro? Guarda, non teniamo più il conto. Credo sia il settimo a questo punto in cui cerchiamo di raccontare dentro e fuori dall'ambito CISL Emilia Romagna quello che stiamo facendo, i progetti anche innovativi che incominciamo a incontrare, i protagonisti, i ragazzi, le ragazze che incontriamo. E oggi Matteo davvero ti ringrazio di questa ospitata perché abbiamo occasione di dare spazio e di raccontare un progetto che incomincia a nascere e che è un progetto estremamente innovativo. Poi ce lo diranno i protagonisti e le protagoniste che sono con noi oggi, che guarda al mondo dell'istruzione, dell'educazione e anche di come affrontare in termini di sfida quello che le nuove generazioni chiedono. Insomma sappiamo che quello dell'istruzione e quello della scuola è un mondo molto ingessato, con molte difficoltà. È bastata una pandemia per mostrare come dire ad esempio anche le lacune informatiche, le lacune digitali. E ora mettere a punto un nuovo modello per cercare di connettere anche il mondo in cui si impara, il mondo in cui si produce e si lavora è una grande sfida. Noi come sindacato abbiamo colta e l'abbiamo colta proprio attraverso Spazio Lavoro, il percorso che grazie alla disponibilità di Radio Fly raccontiamo tappa per tappa con i suoi protagonisti. Oggi andiamo a parlare di un progetto che si chiama Sprintali e poi ci racconterà direi di far partire Simone Tabellini che è già stato nostro ospite, che abbiamo incontrato ai UTS, questo percorso partecipativo attraverso il quale poi abbiamo creato le condizioni di partenza, anche di spazio lavoro come Cisle Emilia Romagna con altre organizzazioni, nostre partner. E direi proprio di dare la parola allora a Simone per chiedergli come nasce e di che cosa si tratta. Sprintali, qual è la sfida, quali gli obiettivi. Prego Simone. Ciao a tutti, ciao a tutte, grazie Lorenzo, grazie di questo intervento, di questo piccolo spazio che ci dedicate. Allora, Sprintali, per spiegarlo nella maniera più veloce possibile, più comprensibile, immaginiamocelo come un evento, penso come l'idea di creare qualcosa di condiviso. L'idea nasce appunto con l'obiettivo di avere un impatto. Spesso si sente parlare di impatto sui giovani, impatto nel mondo dell'istruzione, come hai detto, anche la pandemia ce l'ha fatto vedere. Noi cosa vogliamo fare in maniera molto semplice, ma se sei un po' dinamica, perché siamo un team di giovani e giovani persone. Quello che vogliamo fare è radunare un pool di ragazzi, giovani, talenti e professionisti all'interno di questa location che abbiamo già individuato. Una location è a Chivasso, vicino a Torino, dove queste persone divise in team avranno l'opportunità di creare soluzioni innovative e digitali su appunto il tema che prima introducevi te, dell'istruzione. Questo diciamo che è l'obiettivo principale e in tutto ciò abbiamo adottato, adotteremo anzi meglio, delle tecniche, delle metodologie proprie dell'innovazione per creare questi impatti in maniera concreta. Quindi avere delle soluzioni che i team poi potranno portare avanti e costituirle per poi testare sui giovani e sul target di riferimento che poi i team troveranno. Allora, questo che dice Simone è estremamente interessante. In realtà anche spazio lavoro, anche il nostro percorso, qui Simone insieme ad alcuni suoi colleghi era presente alla tappa di avvio con l'assessore Colla, insomma con la regione, anche la componente istituzionale, i nostri altri partner, nasce proprio dall'idea di applicare un metodo, ma al metodo ci arriviamo, ci arriviamo con Ludovica tra pochissimo. Prima vorrei chiedere però a Giacomo di stare un po' sui temi, quali saranno i temi di discussione che vi vedranno coinvolti, che vedranno coinvolti tanti altri ragazzi e tante altre ragazze, ma temi e poi obiettivi, sfide, in quali termini si pone la questione. Certo Lorenzo, allora grazie mille innanzitutto per averci dato questo spazio, come diceva anche Simone. La tematica, come hai anticipato tu appunto, è l'istruzione, ma come è uscita, è nata questa tematica? Mesi fa abbiamo dato la possibilità agli utenti, alle persone in target per l'evento di scegliere proprio la tematica. Abbiamo creato un sondaggio, abbiamo ricevuto più di 400 risposte. Di queste, più di 230-240 avevano appunto indirizzato il tema principale dell'evento sull'istruzione, sull'educazione. Allora siamo partiti da quello e ad oggi stiamo ancora facendo molte analisi, grazie anche a altri esperti di altre associazioni, sia di partner che non, che non ancora almeno, speriamo diventino, cercando appunto di trovare una sfida molto più specifica, perché a livello generale l'istruzione è piena di ambiti, quindi è molto difficile poi creare una soluzione partendo da un tema così generale. Quindi stiamo cercando di trovare una sfida molto più specifica. Ad ora vi dico che le tre tematiche, diciamo, le tre sfide che sono uscite anche tramite le interviste con i vari esperti, talk con i vari esperti, sono tre sfide molto attuali e soprattutto molto importanti, come ci hanno detto anche loro. Le tre tematiche sono principalmente l'educazione imperditoriale nelle scuole e soprattutto nelle università, comunque che c'è proprio a ridosso del mondo del lavoro. Ormai in un mondo dove gira l'innovazione, si crea sempre qualcosa di nuovo ogni giorno, non si può insomma mettere in secondo piano l'educazione imperditoriale. Il secondo è il mismatch tra scuola e lavoro, quindi tra l'ambito scolastico, le skill che richiede la scuola e le skill che poi richiederà il lavoro in futuro. Quindi c'è molto mismatch tra queste due tematiche. E la terza sfida che ci sta, diciamo, più a cuore anche a noi del team è quella relativa all'oppressione psicologica che gli studenti hanno al giorno d'oggi in ambito sia scolastico ma soprattutto universitario come avrete anche voi sentito dalle ultime notizie purtroppo tragiche di alcuni ragazzi. Quindi queste sono le tre tematiche, diciamo, principali. Adesso noi stiamo continuando ad analizzare anche il mercato per proporre la sfida migliore e che abbia più possibilità di soluzione ai partecipanti. Per fare ciò, anche grazie a Ludovica, stiamo cerchando appunto di parlare ancora con degli esperti per riuscire ancora di più a entrare nella tematica, avere più cose possibili da presentare ai partecipanti. Allora, grazie Giacomo. Davvero su questi temi trovo una convergenza davvero forte con quello che anche noi stiamo cercando di portare avanti. C'è un'indagine di Union Camera che ci dice che il mismatch sul mercato del lavoro è arrivato al 46%. Vuol dire che, insomma, il primo problema sul mercato del lavoro non è tanto la carenza di offerta o la carenza di domanda. Entrambe si verificano proprio perché c'è una mancata convergenza delle competenze che l'offerta di lavoro può mettere a disposizione e che la domanda richiede. Questo mismatch noi sappiamo che si radica proprio nel momento dell'istruzione. È lì che se ne costruiscono le premesse. Per questo che noi abbiamo deciso di partire dalle scuole. E attualissimo trovo anche il tema della scuola, della educazione all'imprenditorialità perché davvero, come dire, nel nostro paese abbiamo scuole che insegnano tutto ma non le competenze per fare impresa. E lì tanti poi si bruciano. Tante buone idee forse non trovano poi modo di realizzarsi proprio per questa ragione. Per cui, mi raccomando, poi io mi sono già fatto promettere questo da Simone. Raccontateci, venite tornati a raccontarci che cosa esce da questo percorso e poi certamente avremo modo di tenerci in contatto. Adesso però vogliamo sentire Ludovica sul metodo. Grazie Lorenzo. Quindi la vera domanda qui è come possiamo affrontare questa sfida che ci sta a cuore? Noi abbiamo pensato di affrontarla tramite il design sprint. Che cos'è il design sprint? È un processo di innovazione rapido e strutturato che aiuta appunto i team come il nostro a risolvere problemi complessi in soli cinque giorni. Noi lo faremo invece in tre. Come lo faremo con workshop facilitati da noi, collaborativi. E durante questo processo i partecipanti lavoreranno insieme per definire il problema, creare soluzioni e creare anche un prototipo di un prodotto digitale che andranno a testare appunto anche con utenti in target. Il nostro obiettivo finale sarà quello di sviluppare e validare appunto la loro idea di prodotto che avranno anche l'opportunità di presentare degli incubatori di startup. Quindi poi noi speriamo che questa idea andrà anche avanti in un futuro e che questi ragazzi potranno anche svilupparla in modo completo più avanti. E poi è interessante Ludovica, credo anche il modo, ma vorrei sottolinearlo poi se vuoi dopo magari ci dici qualcosa anche di questo, avete selezionato la tematica in modo estremamente partecipativo, ce lo accennavano prima i tuoi colleghi perché il parterre di coloro che poi dovranno andare a partecipare all'evento ha avuto modo di determinare la tematica che non è stata messa all'ordine del giorno dall'alto. No, esattamente. Appunto, come dice una buona user experience, noi abbiamo sentito prima gli utenti finali, che appunto in questo caso i nostri utenti finali del nostro evento sono i partecipanti e abbiamo chiesto loro che cosa sta a cuore. Gli abbiamo offerto una serie di tematiche e sono stati proprio loro a scegliere il tema dell'istruzione e saranno anche loro che ci aiuteranno a capire quale, diciamo, tematica dell'istruzione sarà più importante affrontare con i nostri esperti. Anche tutti i workshop all'interno del design sprint saranno partecipativi, quindi verranno facilitati anche grazie all'aiuto di facilitatori come Andrea Romoli che ci illustrerà anche quello che è il Lego Series Play, che è una tecnica di design usando i Lego. Avremo anche collaboratori come Fight Bean che ci aiuteranno anche a facilitare tutti questi workshop che sono un metodo di design collaborativo, quindi delle attività che permetteranno ai ragazzi di mettere insieme le proprie idee appunto in gruppo, quindi l'idea di tutti verrà ascoltata e si genereranno tantissime idee e si troveranno sicuramente soluzioni ai problemi. Ecco, questo è molto interessante. Noi siamo in attesa poi del vostro feedback non appena l'evento sarà concluso. Ricordateci le date. Le posso ricordare io, l'evento si terrà a fine marzo dal 24 al 26. C'è possibilità per chi fosse interessato a partecipare, o meglio, a partecipare alle selezioni della prima edizione. Questa deadline, questa scadenza è il 28 febbraio, quindi tra pochi giorni. Si potrà fare l'application tramite il link che è presente sul nostro sito sprintali.it Altra parentesi, per chi fosse anche interessato a seguire gli sviluppi, perché costantemente siamo anche noi dinamici nell'organizzazione, non abbiamo ancora trovato una quadra, ma è anche il bello di fare cose innovative. Ci potete seguire sui nostri canali social, abbiamo Instagram, Facebook, LinkedIn, o sul nostro Telegram trovate anche lì il link alla community, dove ogni giorno mettiamo dei piccoli sondaggi appunto per portare avanti questo processo di co-creazione con gli utenti e trovate tutto sul sito. Bene, noi certamente saremo tra quelli che vi seguono. Personalmente, come dire, ho questo rammarico di non potermi unire a voi per la tre giorni, però saremo con voi spiritualmente, poi vi attendiamo, vero Matteo? Attendiamo i nostri interlocutori un'altra volta in radio per raccontarci come è andata poi nei fatti, che cosa è emerso da questa tre giorni. Assolutamente sì, veramente molto interessanti, ho ascoltato cose veramente piacevoli. Ragazzi, congratulazioni e complimenti. E continuiamo così. E allora grazie a Giacomo, grazie a Simone, grazie a Ludovica per essere stati con noi. Ci aggiorniamo presto. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.